E' partito a sprombattuto il controllo straordinario del centro storico e delle piazze da parte della polizia, come deciso una settimana fa dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza Padova. Ben 140 sono stati infatti le persone identificate solo ieri in varie parti della città. Cinque gli arresti effettuati dagli agenti tra Prato della Valle e Via Trieste, tutti tunisini irregolari tranne una cinese. Tra questi, due sono stati fermati con dosi di eroina già pronte per essere vendute e tre di questi inottemperanti all'obbligo di espulsione dall'Italia. Sempre nelle piazze è stato arrestato con algerini irregolare, sorpreso a rubare dentro un supermercato. Quattro agli arresti effettuati invece in via Mazzoni, nei confronti di altrettanti tunisini per furto aggravato in concorso ai danni di un'abitazione nella quale al momento era assente il proprietario. Indagati in stato di libertà anche altri sette tunisini irregolari trovati dentro un casolare abbandonato in via Guidi. Stessa sorte anche per un algerino senza fissa dimora fermato in via Le Codalunga. Oltre alle persone, i controlli degli agenti sono stati estesi anche a sei bar della città e hanno portato a 40 identificazioni e tre persone accompagnate in questura. Anche domani chiaramente saremo presenti con personale cospicuo sia in borghese che in divisa e proseguiremo l'attività appunto per tutto il mese. Questa settimana concentrandoci sulle piazze e come dicevo prima in Prato della Valle.